Un dopo gara, Mister Gallo con la mare in bocca, lo Spezia parte male, parte sotto, poi nella ripresa crea, ma a questo pareggio non arriva. Lo Spezia non è riuscito a pareggiare questa partita per sfortuna, perché ha creato molto, soprattutto nel secondo tempo, ha perso la partita senza aver subito un tiro in porta, in modo concreto, perché c'è stata una ribattuta su questa punizione e ritengo che sia una sconfitta immeritata. Detto questo, noi dobbiamo ripartire da questa prestazione, da questa voglia di fare e dal fatto che questo pubblico, che è un pubblico esigente, che capisce, ha apprezzato lo sforzo fatto alla squadra e quindi dobbiamo proseguire. Un passo in avanti, diceva, rispetto a Palermo dal punto di vista del gioco, ma cosa manca ancora a questa squadra per sbloccarsi? Ma oggi siamo stati imprecisi, sfortunati, mettetela come volete, ci serve una scintilla che possa ancora di più darci la possibilità di avere forza e di avere convinzione nel proseguire ancora più forte e con più convinzione.